Hello my Nutella, bentornati in un nuovo video, oggi vi mostrerò cosa succede ai miei capelli quando dormo una notte senza fare la mia night routine, e si può capitare che uno si addormenta senza fare il suo dovere, quindi andiamo subito a scoprire. Come potete vedere i capelli sono un disastro, e si, ci sono tanti tanti nodi, mamma mia, adesso vediamo come rimediare a tutto questo, prendo il pettine, no 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 no, assolutamente no. Quando è così comincio sempre con una bella idratazione, e approfitto anche per districare per bene i capelli, in modo da sciogliere tutti i nodi, questo rende anche i capelli facili da manipolare. Quindi vado a spruzzare l'acqua su tutti i capelli, come ripeto sempre, attenzione a non affogare i capelli. Una volta districato i miei capelli, passerò all'applicazione del living condition. Ormai è da due anni che uso questa crema chantilly di Afro Ricci, se vi interessa ho fatto una recensione, vi lascerò il link da qualche parte qui, andate a guardare. Applico un bel po' di crema su tutti i capelli, voglio che siano abbastanza umidi, perché hanno sofferto durante la notte. Quindi vado ad applicare la mia crema chantilly su tutti i capelli, massaggiando bene per far penetrare tutto nella fibra capillare. Dopodiché vado a separare i capelli in quattro sezioni. Se avete pochi capelli, potete fare più sessioni, sei, cinque, come volete. E approfitto sempre per districarli, per massaggiarli per bene, per togliere tutti i nodi. Dopodiché applico un burro per sigillare l'idratazione. In questo caso uso questo della naconine che vi ho già presentato e vado ad applicare il burro su tutti i capelli, seguendo sempre la stessa procedura, massaggiando per bene. Come potete vedere i capelli adesso sono più brillanti, si vede che sono idratati, ci sono meno nodi e sono più facili da manipolare. Una volta applicato il burro vado a fare quattro trecce per permettere ai capelli di rilassare un po'. E niente, faccio la mia treccia, normale. Non uso nessun pettine, come potete vedere, non ho usato nessun pettine, né spazzole, né niente. Dopodiché vado ad asciugare leggermente i capelli per favorire il calore, ma anche per ottenere velocemente un effetto rilassato. Eccomi qua, adesso vado a sciogliere le mie trecce. Prendo un po' di olio di cocco che vado ad applicare sulle mani e un po' dei capelli. Quindi applico l'olio e comincio a sciogliere delicatamente i capelli. Dopodiché vado a separarli gioca per gioca. Lo scopo qua non è ottenere dei ricci, ma è per avere i capelli un po' rilassati. Dopodiché prendo il mio pettine afro per dare più volume. Se volete sapere il mio metodo per arricciare i capelli, ho fatto dei video su come realizzare i bread out e i bone to note out. Vi lascerò tutti il link qui nell'infobox. andate a guardare. Quindi cercherò di dare un po' più di volume ai capelli e successivamente passerò alla conciatura. Soltanto che in questo periodo mi piace portare i capelli liberi, shrinkati, proprio perché fa caldo. Ora che si fa? Metto prima gli orecchini. Questi orecchini sono degli orecchini che vendevo tanti anni fa, ma ho mai ora non ci sono più. E userò anche questo accessorio che ho comprato dai cinesi quest'estate a un euro. Non sembra giusto. E vado ad accessorizzare i capelli. E sono pronta! Questo è il look finale. Spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, mettete tanti tanti like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Muah! 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 Muah!